Festeggia il nuovo anno con il cenone di San Silvestro, firmato del sito Hotel Le Due Torri, 0825 67 00 01. Grande successo per la settima edizione del Gran Galà di fine anno che si è tenuto a Calvi. Nel corso della serata, presentato da Fatima Trotta, sono stati tanti personaggi di spicco ai quali è stato conferito il sigillo dell'amicizia 2016. Testimonianza di affetto e riconoscenza a chi si è distinto e ha valorizzato il territorio e non solo. Il sigillo dell'amicizia non è un premio formale, così il sindaco di Calvi, Armando Rocco, è un riconoscimento sostanziale, un segno concreto della nostra amicizia istituzionale e soprattutto comunitaria, riconosciuti a personalità che hanno operato bene nei loro campi d'azione, dalla cultura al sociale, dall'arte allo spettacolo, testimoniando i valori dell'amicizia, della solidarietà e dell'umana comprensione. Siamo al settimo anno, raggio di luna, va oltre i sentieri, oltre i confini di Calvi e quest'anno siamo riusciti a coinvolgere anche altri cinque comuni che condividono con Calvi la via Appia e il primo giorno soprattutto il tema verteva sul Ponte Appiano, condiviso da Calvi, Abice e Vendicà. Credo che sia un premio importante, un sigillo importante, un evento, una rassegna importante, quindi ringrazio anche la Regione Campania per averla finanziata, ringrazio i comuni coinvolti che hanno accettato l'invito e ringrazio tutti coloro che sono impegnati per far sì che tale idea poi divenisse realtà. La serata è stata arricchita dagli interventi in musica di Fluido Ligno, Notturno Concertante, Luca Pugliese e da passi di danza affidati al Balletto del Sagno e Giuseppe Perez. La serata di gala, intendo struttura riscaldata, si inserisce nel progetto Oltre i sentieri, raggio di luna sul Ponte Appiano, che fino al prossimo 30 dicembre presenterà eventi nei comuni di Apice, Castelpoto, Ceppaloni, San Nicola Manfredi e Venticano.